Ben ritrovati. In questa lezione consideriamo ulteriori tecnologie che si sono sviluppate ed affermate sul finire dell'Ottocento, a dimostrazione di quanto sia stato vulcanico questo secolo, non solo, ma in particolare in tema tecnologico. Bene, togliamo come al solito la mia immagine webcam e passiamo agli argomenti. Il gruppo di tecnologie importanti riguarda le applicazioni industriali elettriche ed iniziamo con le saldature elettriche, in particolare quella ad arco elettrico, con elettrodo in ottone è un dettaglio, sviluppata come vedete da un russo e da un polacco nel 1885 ed è una tecnica di saldatura tuttora estremamente importante, quindi si tratta di un processo che ha avuto un grosso peso a livello industriale. e come mai appare solo nel 1885 in realtà? L'arco elettrico sappiamo che è una scoperta di inizio secolo e ha già dato frutti tecnologici con la lampada d'arco a metà del secolo. Gli effetti termici che produceva erano già noti, come mai solo ora viene sfruttata industrialmente? C'è una risposta molto semplice, è un processo, quello della saldatura d'arco estremamente energivoro e quindi soltanto quando l'energia elettrica è disponibile a passo costo, come fornitura industriale a passo costo, diventa percorribile questa strada. Come vedete le tecnologie devono avanzare insieme perché abbiano successo, lo ripeto ancora una volta. Un'altra saldatura molto importante è quella a resistenza, quindi con i due metalli da saldare che vengono posti a contatto ma senza esercitare un'elevata pressione in modo che ci sia una resistenza di contatto elevata e una volta che è percorsa da corrente sviluppa una dissipazione, quindi un calore tale da permettere la saldatura dei pezzi. L'invenzione è di Elliot Thompson, un importante tecnologo americano, di origine inglese anche questo, di fine secolo e anche in questo caso si tratta di un processo che ha avuto un successo strepitoso nel Novecento e lo ha tuttora, con applicazione in particolare all'industria automobilistica, permettendo lì di eseguire delle lavorazioni altrimenti impossibili. Poi parlando di siderurgia, quindi di materiali, bisogna citare gli acciai speciali che continuano ad apparire. L'acciaio di Maschett, ho già avuto modo di dire, comparso nel 1889, un acciaio a base di tungsteno, con un tenore elevato di tungsteno, che permette in particolare di ottenere degli utensili di lavorazione, utensili da taglio, da taglio di che cosa? Di un materiale molto resistente, quindi di un acciaio standard, un acciaio dolce, con prestazioni veramente notevoli. Lavorare l'acciaio era piuttosto complicato e solo grazie alla disponibilità di utensili così resistenti, realizzati in acciaio speciali, queste lavorazioni sono diventate semplici e frequentabili facilmente. Tra l'altro, vedete, velocità di lavorazione è estremamente elevata, quindi in modo anche molto efficiente. Un altro acciaio speciale che vale la pena di ricordare è quello di Taylor & White, in questo caso si tratta di un'invenzione americana, Maschett invece era un inglese, come abbiamo già visto in precedenza, che di nuovo usa il tungsteno, però l'acciaio finale viene ottenuto con un processo termico particolare e anche in questo caso la destinazione è quella di avere utensili da taglio di acciai standard molto efficaci. Di Friedrich Taylor avremo modo di tornare a parlare in una prossima lezione perché ha dato altri importantissimi, anzi più importanti anche di questo, contributi allo sviluppo della tecnologia. Altra applicazione siderurgica dell'energia elettrica, tornando ad essa, è quella del forno elettrico, forno elettrico che viene brevettato nella versione ad arco per la prima volta nel 78, nell'80 comincia ad avere applicazione industriale e in questo caso i contributi fondamentali vengono da uno dei Siemens, Wilhelm Siemens, che è fratello di Werner, emigrato, trasferitosi in Inghilterra per curare gli affari della filiale inglese dell'azienda di famiglia e qui diventato uno dei grandi tecnologi inglesi, al punto tale da venire naturalizzato inglese, addirittura nobilitato, riceve alla fine della sua vita il titolo di Sir dalla regina Vittorio. Quindi una persona anche questa di importanza notevole nella storia della tecnologia, in particolare britannica, ma ci sono anche dei contributi italiani. Nel 98, ancora quest'anno, Stassano inventa un forno ad arco elettrico proprio per fondere l'acciaio particolarmente efficace e qui ne vedete una rappresentazione in un reperto che ha conservato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, tra l'altro con una dedica proprio che viene dagli Stati Uniti, che è un riconoscimento importante. Poi il perfezionamento, in questo caso negli Stati Uniti, da parte di Paul Leroux, uno degli scopritori del processo di produzione elettrolitica dell'alluminio, ma che ha dato anche questo contributo importante, come vedete. Qual è l'importanza di tutti questi forni elettrici? Beh, è quella di ottenere temperature molto elevate, altrimenti molto difficilmente o impossibili da raggiungere con processi di combustione convenzionale e di controllarle in modo molto accurato queste temperature. In secondo luogo c'è un processo di combustione, quindi non vengono prodotte sostanze combuste contaminanti, c'è un controllo accurato della composizione, se ne ottiene un controllo accurato della composizione degli acciai che vengono così prodotti e si possono ottenere acciai in varie composizioni e diventa il processo elettivo per realizzare acciai di elevatissima qualità in sostituzione di quello al crogiolo che abbiamo visto, è comparso già nel Settecento e si è affermato poi all'inizio dell'Ottocento in tutta Europa. Questo di nuovo è un reperto di forno ad arco elettrico conservato al museo, al Deutsche Museum di Monaco. Allora vi dicevo che questi processi sono particolarmente importanti allora quando vengono inventati, ma lo rimangono e lo sono tuttora, vale la pena di fare un pochino il punto sulla tecnologia dell'arco elettrico, del forno ad arco elettrico, si usano oggi archi elettrici con elettrodi in grafite che richiedono elevate potenze sia in corrente trifase che in corrente continua. Qui vedete, ho dato dei numeri per darvi un'idea delle scale di potenze su cui si lavora e il disegno ci va a vedere anche le dimensioni di questi archi. Questo effettivamente è un forno trifase, vedete i tre elettro di uno per ciascuna fase, la creazione dell'arco, lo sviluppo di calore che trasforma in un letto fluido il fuso che c'è sotto. Si raggiungono temperature, come vedete, nell'arco di 3500 gradi e nel letto fuso, come stavo dicendo, di 1800 gradi. In questo modo si possono tra l'altro riciclare perfettamente i rottami di ferro e il ferro diventa ancora più riciclabile di quanto non era già con i processi Martin Siemens di cui abbiamo parlato. Allora vale la pena di fare un pochino mente locale a quale è stata la storia dell'acciaio. Vi ho anticipato del ferro, anzi, quando ne abbiamo iniziato a parlare in una delle prime lezioni, che la storia del ferro e l'età del ferro è un periodo lunghissimo. Ricordiamocelo, sono stati gli titi a iniziare a forgiare il ferro nel 1400 avanti Cristo e c'è stato poi un processo continuo e lento di perfezionamenti, di miglioramenti per arrivare all'acciaio come lo intendiamo adesso. Qui vi ho riassunto le tappe principali di cui già vi ho parlato. Questa tabella, questo elenco, si ferma al 1907, ma come vedrete in una delle lezioni future vi dimostrerò che ci sono stati anche passaggi ulteriori molto importanti di nuovo in questo settore. Queste sono applicazioni dell'energia elettrica di grande potenza, ovviamente. L'abbiamo visto nella slide precedente, serve molta potenza elettrica per realizzare questi processi industriali molto avanzati. Ma esistono anche sul finire del secolo, appaiono anche sul finire del secolo, delle applicazioni di segnale innovativo, dove la potenza richiesta è poca ed è invece importante il contenuto di informazione che può essere veicolato con l'elettricità. In effetti qualcosa già l'abbiamo visto, il telegrafo fa questo, il telefono fa questo, ma c'è anche un altro settore che è quello del conteggio, del calcolo che è foriero di applicazioni. Il primo che va in questa direzione è un americano, ma in realtà è di origine tedesca, quindi si tratta ancora una volta di quella immigrazione di eccellenza di europei verso gli Stati Uniti che vanno a contribuire al grande fermento culturale, scientifico e tecnologico di quel paese che sta emergendo come potenza mondiale. In questo caso si chiama Ollerit, questo signore Erman, che ha chiaramente un nome tedesco, Ollerit, che studia alla Columbia University e già da studente lavora a questa idea, è quella di costruire un tabulatore elettrico. Lo vedete rappresentato lì. È un selezionatore e contatore, quindi non è che faccia operazioni particolarmente sofisticate. Si infilano delle schede perforate opportunamente, vedete che torna fuori il concetto della scheda perforata per gestire informazioni, che vengono lette da dei tastatori ad ago, dove il tastatore ad ago incontra la particolare posizione del foro, che ovviamente è fatto deliberatamente in una particolare posizione della scheda. Allora quel tastatore che incontra questo foro può chiudere un contatto elettrico, e quel contatto elettrico fa avanzare il corrispondente contatore. Questi sono dei contatori ad ago. Ogni volta che c'è un contatto elettrico la lancetta avanza di una posizione. Quindi passando velocemente le schede si hanno i conteggi di tutti questi dati. È la prima macchina elettrica per la gestione dei dati. Dov'è che trova applicazione una macchina di questo tipo? Beh, in un'esigenza molto sentita dal governo federale americano di quell'epoca, che era quella di fare il censimento della popolazione statunitense, che stava crescendo in modo molto rapido, in seguito a quelle ondate di immigrazione che arrivavano da varie parti del mondo, dall'Europa, dall'Asia. Gli Stati Uniti stavano alimentando la loro vocazione multiculturale, multietnica. La macchina ha un enorme successo. Un enorme successo perché prima questi conteggi del censo si facevano a mano e richiedevano parecchi anni. Eseguiti invece con il contatore, il tabolatore automatico di Hollerite, diventano estremamente più rapidi. Quindi forniscono i risultati molto presto rispetto al momento in cui sono state fatte le rilevazioni. Se passano tanti anni, evidentemente le rilevazioni sono ormai superate dai fatti e i risultati sono poco rilevanti. Bene, poco fa vi ho parlato... Torneremo ancora a parlare di Hollerite, tra l'altro, perché è un personaggio che ci riserva delle sorprese, come vedrete. Poco fa invece ho parlato di ERO, vi ho detto del processo elettrolitico. Vediamo di cosa si tratta. Torniamo un attimino indietro. Nel 1886, ecco qui un'altra applicazione di potenza dell'energia elettrica, è questa. Si tratta della produzione di alluminio per via elettrolitica, sfruttando fenomeni elettrici e elettrolitici. La cosa interessante è che è un'invenzione, vedete qui due fotografie di due individui e due nomi, Charles Hall americano e Paul Hero francese. È una cosa veramente curiosa perché, stando da due parti diverse dell'Atlantico, hanno eseguito questa invenzione, sono arrivati a questa invenzione nello stesso anno, nel 1886. Ancora una volta a testimonianza del fatto che questa evoluzione era nell'aria e qualcuno prima o poi ci sarebbe arrivato. Non è il parto di una mente geniale ed isolata, ma è un processo di sviluppo tecnologico che ha una valenza, un'interpretazione più alta. I due all'inizio litigarono anche perché pensavano che l'invenzione fosse stata carpita l'uno all'altro e viceversa. Alla fine si resero conto che in realtà erano effettivamente entrambi inventori autonomi della stessa invenzione e quindi si accordarono e pacificarono. Come vedete qui, trovate esattamente le stesse date, e loro avrebbero da temere che io abbia fatto un errore nel copio e incollo, abbia mantenuto le stesse date di nascita e di morte. Invece non è così. Un gioco del destino veramente bizzarro ha fatto sì che questi due signori nascessero nello stesso anno, morissero nello stesso anno ed eseguirono l'invenzione della loro vita nello stesso anno. Bisogna precisare una cosa sull'annuminio. Era stato isolato nel 1825 da Oester, lo scopritore dell'elettromagnetismo per inciso, e tramite processi di raffinazione chimica si è riniziato anche a produrlo a livello industriale, però questi processi chimici erano estremamente costosi. Il risultato era che l'alluminio isolato puro era estremamente costoso e considerato la stregua di un metallo prezioso. Per cui ad esempio si facevano le posate in alluminio ed erano un servizio da tavola che potevano permettersi soltanto famiglie estremamente agiate, come e più delle realizzazioni, delle analoghe stoviglie fatte in argento per intenderci. Il processo elettrolitico invece, a patto che l'elettricità costi poco, quindi bisogna averla disponibile a basso costo, ma abbiamo visto che ci siamo già arrivati ormai, permette di produrre l'alluminio a costi estremamente più bassi. improvvisamente diventa un materiale estremamente economico. Allora, questo era quello che succedeva prima, vedete, oggetti preziosi in alluminio, di elevato valore comunque, e questo è quello che succede dopo, delle banali gavette usate in guerra durante la Prima Guerra Mondiale, ovviamente con il vantaggio di essere molto più leggere che se realizzate in ferro, ad esempio, e di non arrugginire. E quindi nasce con questo la grande industria elettrochimica, la produzione per via chimica di materiali, e lo stesso Hall, questo signore qui, crea la Pittsburgh Reduction Company, vedete, due anni dopo soltanto l'invenzione, soliti processi tipici del mondo americano, sostenuto tra l'altro da grossi capitali di ventura, messi a disposizione di queste idee notevoli, dove va a costruire la sua fabbrica Hall, ovviamente dove è disponibile energia elettrica a basso costo, alla grande centrale delle cascate del Niagara, che di lì a poco viene realizzata, come abbiamo visto in una lezione precedente. Ma ancora una volta, a testimonianza di come le invenzioni si susseguono, si sostengono in un processo continuo, ecco che all'indomani della disponibilità di alluminio a basso costo, vengono inventati processi come questo, il processo di riduzione alluminotermica, inventato in questo caso da un tedesco, Goldschmidt, come vedete, che permette di ottenere e di isolare metalli, altrimenti poco accessibili, in modo relativamente economico, grazie all'alluminio, è un processo di riscaldamento che raggiunge temperature molto elevate, superiori alla temperatura di fusione di questi materiali poco accessibili. È in questo modo che si possono isolare facilmente il cromo, il manganese, il molibdeno, il trusteno, che, come abbiamo visto, diventano importanti in varie lavorazioni, in particolare nella produzione degli acciai speciali. Dopo qualche anno, sempre sfruttando il calore di un processo secondario di questo tipo, è sviluppata un nuovo tipo di saldatura, la Termit, che quindi ha, se vogliamo, un'origine elettrica anche lei, ed è, come capite, un caso veramente esemplare di interdipendenze tecnologiche tra tecnologie che si susseguono, tra invenzioni che si susseguono. Siamo arrivati a parlare, siamo entrati in un capitolo che è quello dei nuovi materiali, ce ne sono anche altri, sempre che fioriscono e appaiono sul finire del secolo, anzitutto dei carburi, dei composti di carbonio particolari, il carburo di calcio, anzitutto inventato dai due signori che vedete lì, in questo caso si tratta di un francese, di un canadese, grazie al forno elettrico, tra l'altro, e che è importante per la produzione di acetilene per illuminazione, in un periodo in cui l'illuminazione elettrica non si era ancora affermata completamente, perché servivano le reti elettriche e non sempre erano facilmente realizzabili su grandi distanze, ricordiamoci questi problemi, e poi ancora il carburo di silicio, che ha un nome commerciale, carburundum, come vedete, inventato da un americano, Atchison, è già collaboratore di Edison, uno degli ingegneri che lavoravano per Edison, ed è un materiale, in questo caso, refrattario ed abrasivo, che grazie alla sua altissima resistenza meccanica ha una notevole importanza in una serie di processi industriali. anche questo richiede notevole energia per essere prodotta, quindi serve energia a basso costo, e anche la fabbrica di Atchison del carburundum viene localizzata alle cascate del Niagal, alla grande centrale del Niagal. Quindi, ancora una volta, torno a farvi notare come si verifichino fenomeni di accentramento di comprensori produttivi dove sono disponibili le risorse primarie, in questo caso l'energia elettrica. Altro materiale innovativo, la viscosa o seta artificiale, in questo caso è l'invenzione britannica di questi due signori, Cross e Beaven, che hanno un loro laboratorio privato per sviluppare prodotti di interesse industriale, ed è la prima fibra sintetica industriale, appunto, utilizzabile, sfruttabile a livello industriale, di successo. Cosa notevole, è sviluppata dalla cellulosa del legno, in modo economico, e quindi si tratta di un materiale facilmente accessibile, deve essere trattata con la soda, vabbè, questo ha un po' meno importanza, e in realtà vi ha un precedente di qualche anno prima, ma è con questo processo, quello di Cross e Beaven, che la viscosa, la seta artificiale, così viene chiamata, diventa un prodotto industriale competitivo. Tanto è vero che qualche anno dopo, vedete, inizia proprio in Gran Bretagna la produzione sistematica. La cosa notevole è che è un derivato, ve lo ripeto, della cellulosa, e vedremo che non è l'unico, ce ne saranno altri. La cellulosa, abbiamo già visto la carta ovviamente di cellulosa, si presenta come una materia prima molto importante per una industria dei materiali innovativi, che continua a svilupparsi anche nel Novecento. Tornando al ferro, l'acciaio al ferro, ma per trovare in questo caso al ferro, il 1889 vede la realizzazione di una costruzione impressionante, dimostrativa e impressionante, con questo materiale. Sto parlando della Torre Eiffel. Chi la realizza è colui che ha dal nome alla Torre, Gustave Eiffel, che è un grande pioniere delle strutture in acciaio, ha già una grandissima esperienza in questo settore, ha costruito ponti, stazioni ferroviarie, sono fatte in acciaio perché il legno è poco adatto a quell'applicazione, poi ancora ferrovie, eccetera, e addirittura nel 1881 ha fornito la struttura interna della Statua della Libertà che, credo lo sappiate, è stata donata dalla Francia agli Stati Uniti d'America proprio nel 1881. Nel caso della Torre Eiffel si tratta di realizzare il monumento simbolo della grande esposizione universale che si tiene quell'anno a Parigi, viene posta all'ingresso dei padiglioni fieristici e ne vedete qui le dimensioni, un'altezza veramente sconcertante, 324 metri, 10.000 tonnellate di ferro, è l'edificio più alto al mondo per 40 anni. Non tutti lo accolgono benevolmente, i puristi dell'architettura lo considerano un vero obrobrio stilistico, ne reclamano l'abbattimento prima possibile, infatti nasce come struttura temporanea per la fiera appunto, invece riesce a rimanere in piedi perché a un certo punto si dimostra utile come torre per antenne delle trasmissioni radio quando queste appaiono di lì a pochi anni e per fortuna viene quindi mantenuto e credo che oggi se non ci fosse la Torre Eiffel Parigi non sarebbe Parigi. Diventa di fatto il monumento rappresentativo della città, più di qualunque altro, e direi celebra da un lato l'epopea delle grandi costruzioni edilì in ferro, ma anche celebra, vincendo appunto le resistenze di chi ha un atteggiamento conservatore, celebra anche il fatto che il ferro, l'acciaio, la tecnologia possono diventare anche veicoli di innovazione architettonica e artistica. Rimaniamo ancora negli anni Ottanta del secolo e rimaniamo ancora in Francia per vedere il comparire l'affermazione, anche sarebbe più giusto dire perché i tentativi ce ne erano già stati nei decenni, in vari decenni prima. Vediamo comparire, stavo dicendo, l'automobile con motore a vapore. La macchina a vapore è ormai diventata molto efficiente, molto compatta, molto affidabile, se ne possono fare versioni sufficientemente piccole e potenti per motorizzare dei veicoli a guida autonoma, non treni che viaggiano su binari, quindi proprio automobili. Un grande protagonista, pioniere di questi sviluppi è la De Dion Bouton francese che nel 1900 diventa il primo produttore mondiale di autovetture, non di autovetture con motori a vapore, proprio di autovetture di qualsiasi tipo, di automobili. Il successo delle automobili a vapore è tale, abbiamo un dato statistico, sempre per il 1900 americano, statunitense, tutto il mercato fiorente in grande espansione delle automobili americane nel 1900 è coperto per il 40% da automobili a vapore. È la tecnologia, la tipologia di motorizzazione che ha il più elevato successo in quel momento. Qui vedete due realizzazioni diverse, dove si riconosce benissimo la caldaia, eccetera. Ovviamente ci sono dei limiti di serbatoio, non solo di combustibile, ma anche di acqua per generare il vapore e di tempi per portare in ebollizione l'acqua per poter partire, ma questi elementi secondari, diciamo, in questo momento non frenano il successo di questi automobili. però cominciano a emergere anche delle alternative serie percorribili. Nel 1858, ancora un francese, Constantin Platè, inventa il primo accumulatore piombo acido. Cosa vuol dire accumulatore? Vuol dire la prima pila ricaricabile. Le pile, le batterie che si facevano fino allora, erano, come diciamo oggi, usa e getta. Una volta scaricate dovevano essere rimpiazzate con delle batterie nuove. non era pensabile usare prima le batterie ricaricabili. Perché? Ma per un motivo molto semplice, banale, perché ha senso inventare e costruire una batteria ricaricabile se posso caricarla con un generatore che produce energia a basso costo. E quindi, solo dopo che sono apparse le Dynamo, le macchine generatrici rotanti, ha avuto senso sviluppare questa tecnologia. Ancora una volta con un'interdipendenza, come vedete. Gaston Plantet ci arriva nel 1958 con i suoi primi prototipi e nell'81 un altro francese, Camille Ford, sviluppa il prodotto a livello industriale, lo industrializza e lo porta quindi sul mercato. E grazie alla disponibilità di queste batterie ricaricabili diventa ragionevole realizzare automobili elettriche. Diventa una via tecnologicamente percorribile. In realtà erano già stati fatti degli esperimenti di questo tipo, ma in realtà erano studi prototipali, diciamo, senza una reale possibilità di sviluppo a causa del grosso costo delle batterie primarie che venivano usate. lì si devono usare per forza batterie primarie evidentemente. Adesso invece la strada è percorribile, infatti nello stesso 1881 ad un'esposizione che si tiene a Parigi vengono presentate le prime auto elettriche efficienti e si tratta di tricicli come vedete in questo caso. In pratica è un calesse dove manca il cavallo, il cavallo è sostituito dal ruotino anteriore e dal, per quanto riguarda la stabilità del mezzo, e da batterie che vedete molto bene e motore per quanto riguarda invece la propulsione. Ovviamente stiamo parlando di accumulatori che sono ancora poco efficienti e che quindi danno poca autonomia a questi veicoli, però dobbiamo pensare che l'impiego per cui erano pensati era quello urbano, quindi brevi tragitti per cui potevano andare benissimo. Usare automobili a vapore oppure elettriche sulle strade interurbane era impensabile. In primo luogo per lo stato pessimo in cui versavano le strade interurbane o in cui si riducevano quando pioveva, quando si trasformavano in fiumi di fango e così via. Lo sviluppo dell'era auto elettriche è rapido, qui stiamo parlando del 1881 con questi primi rudimentali modelli, come vedete, nel 1894 arrivano ad avere ampia diffusione e con dei vantaggi notevoli rispetto alle altre propulsioni perché anzitutto sono molto più affidabili queste automobili delle prime automobili con motore a combustione interna di cui parleremo presto e sono più pratiche nell'uso delle auto a vapore perché appunto non hanno bisogno di fare rifornimento di acqua, di fare rifornimento di carbone, di aspettare che l'acqua bolla e così via. Hanno la scarsa autonomia, ve l'ho detto, ma in città vanno bene. E sono talmente successo che c'è la passione di organizzare competizioni con tutti questi nuovi mezzi. Nel 1899 è proprio un'auto elettrica, questa a forma di siluro che ha un nome mai contenta che stabilisce il record di velocità. È il primo veicolo che supera, che raggiunge e supera la velocità di 100 km all'ora ed è un veicolo elettrico come vedete. Qua siamo nel 1809 a New York e questa è una stazione di rifornimento, sarebbe giusto dire, di ricarica ovviamente, per auto elettriche che sono allora ampiamente diffuse. Per inciso, nel 1900 il 40% delle auto elettriche americane, poco meno del 40, il 38, è di tipo elettrico. quindi vedete 40% a vapore, 38% elettrico e 22% soltanto a combustione interna. All'inizio queste sono le proporzioni. Altro tipo di veicolo che sfrutta l'elettricità con successo, dove altre propulsioni sono difficilmente applicabili, è quello dei sommergibili, una navigazione sott'acqua. E non è un caso che appunto nel momento in cui appaiono queste batterie e compaiono motori adeguatamente efficienti, c'è chi pensa di costruire sommergibili elettrici. E non ce n'è uno solo, vedete, il primo modello che vi presento è quello russo per lo ZAR nel 1884. Non vi pronuncio questo nome polacco che francamente è impronunciabile secondo me. Nell'88 c'è un'analoga realizzazione spagnola, il Peral, che prende il nome dal suo costruttore e inventore. Abbiamo visto che c'è una tradizione spagnola in questo settore. Questo è proprio il Peral tra l'altro e nello stesso anno c'è il Gymnot in Francia di Zed che è comunque un battello molto performante. Anche questo è molto avveniristico nella linea, lo vedete qui. C'è una vocazione anche francese in questa direzione. L'abbiamo visto parlando dei primi rudimentali sottomarini usati nella guerra di secessione americana. Ma c'è anche una partecipazione italiana a questi sviluppi nel 1890 quindi un paio d'anni dopo compare eccolo qui il primo sottomarino emergibile meglio italiano Delfino che è inventato da un ammiraglio ingegnere navale Giacinto Pullino che è una realizzazione sicuramente notevole per le soluzioni tecniche introdotte anche molto innovative come il periscopio e la bussola giroscopica notate che una struttura in ferro rende inefficace la bussola magnetica quindi la bussola giroscopica era un'invenzione che si era resa necessaria allora con la comparsa di battelli sia che navigavano sia in superficie sia sotto la superficie di tipo metallico con scafo in ferro. Anche gli americani hanno il loro sottomarino sommergibile meglio sottomarino si dice di solito quello che può compiere navigazioni molto lunghe sott'acqua questi invece sono sommergibili perché possono navigare per tratti limitati sott'acqua finché la batteria continua a fornire energia poi vanno ricaricate le batterie e deve emergere. Il 1897 ecco la realizzazione di Holland che è un irlandese ma che va con la sua genialità e la sua preparazione tecnica a trovare a cercare fortuna negli Stati Uniti realizza il suo sottomarino doppia propulsione c'è un motore a combustione interna per la propulsione in superficie in immersione e usa un motore di 8 e c'è in immersione invece l'uso del motore elettrico con lo standard a 110 volt inventato da Edison e portato a successo da Edison e ovviamente con l'accumulatorio al piombo. Anche qui ci sono soluzioni innovative una macchina abbastanza piccola come vedete permette un equipaggio di soli 5 uomini ma comunque è dotata di cassoni di assetto di armi specifiche insomma anche questa ci porta con sede l'innovazione. Ho parlato prima di motore di 8 ma ne vediamo comparire anche altri di motorizzazioni in questo periodo nel 1879 appare il motore a combustione interna a due tempi come mai a due tempi fa solo due fasi no fa tutte e quattro le fasi come il motore a quattro tempi però ne fa simultaneamente due alla volta e quindi in un giro unico completa il ciclo totale con le quattro fasi questo richiede che il cilindro abbia un profilo particolare e che la camera dove si muove l'albero a gomiti venga invasa dalla miscela combustibile l'inventore è Clerc viene poi perfezionato dopo pochi anni e trova nel tempo un enorme successo ad un certo punto anche per veicoli tuttora per alcuni ciclimotori ma specialmente mantiene la sua validità per piccole motorizzazioni dai piccoli motori fuori bordo ai tagliaerbe alle motoseglie e così via quindi ha notevole rinevanza industriale una macchina di altro tipo che punta invece in alto è la turbina a vapore a reazione ad espansioni multiple questo è se volete lo sviluppo delle turbine idrauliche come quella Flensys in campo utilizzando il vapore e ci ricordiamo qual è lo scopo è quello di superare il limite intrinseco del motore a vapore della macchina a vapore tradizionale che ha moto alternativo e quindi ne consegue una limitazione pesante di efficienza la turbina viene sviluppata in modo scientifico da un notevole scienziato e tecnologo inglese di quest'epoca Parsons eccolo qui la introduce nel 1884 nel 1892 vi aggiunge il condensatore con cui che comporta un aumento delle prestazioni notevole e in particolare porta la sua turbina a rendimenti superiori di quelle delle appunto macchine a vapore a moto alternativo di cui dicevo prima il primo modello è piccolino 7 kg al vato e mezzo però però nel giro di poco tempo di pochi decenni si arriva addirittura ai megawatt quindi è una macchina destinata ad applicazioni di grande potenza come vi stavo dicendo dove trova impiego dove trova impiego anzitutto nelle centrali che oggi chiamiamo elettrotermiche ovvero quelle in cui gli alternatori sono trascinati da una macchina termica che è appunto la turbina di Parsons e grande sfruttamento di questo tipo avviene in America ad opera di Westinghouse stabilisce un accordo con con Parsons appunto quella è una turbina di Parsons ancora una volta vedete fotografata al Deutsche Museum di Monaco dove vale la pena di andare se amate la storia della tecnologia senza dubbio però un giorno non basta vi avviso subito e secondo settore in cui ha un enorme fondamentale impiego la turbina di Parsons è nella propulsione di grandi veicoli e sono i piroscafi ovviamente infatti è proprio in questo settore che avviene l'affermazione definitiva nel 1894 vincendo scetticismi e resistenze del mondo navale inglese così importante ricordiamoci la prima potenza navale mondiale l'Inghilterra e di fronte alla regina Vittoria viene Parsons fa una dimostrazione con un'imbarcazione che con un piroscafo che è appunto spinto dalla sua turbina in un caso si chiama Turbinia con la quale vedete in navigazione e la porta ad una velocità letteralmente fantastica per allora di 34,5 nodi in altre parole Surclass le migliori navi dell'ammiragliato con macchine a vapore di tipo convenzionale a quel punto il successo è decretato e diventa una soluzione elettiva per ottenere piroscafi ed altissime prestazioni non è l'unica turbina a vapore che compare in questi anni allora questa è a reazione perché salta sfrutta i salti di pressione c'è anche una turbina ad azione che è una versione sofisticata se vogliamo della della turbina di Laval o dell'equivalente turbina Pelton idraulica viene realizzata da Cartis nel 1896 anche lei ha un importantissimo impiego nelle centrali termoelettriche quali? ovviamente quella della grande competitor di Westinghouse che è la General Electric che non potendo usare la turbina di Parson è felice di usare questa turbina di Cartis anche qui rapidamente si raggiungono potenze veramente impressionanti 1901 si arriva a 5 megawatt di potenza e qui stiamo parlando di motori diversi che fanno la loro comparsa emergono come funghi sul finire dell'Ottocento come vedete in effetti vale la pena di fare una riflessione la prima macchina in grado di sviluppare potenze elevate è stata la macchina a vapore l'abbiamo visto per tutto l'Ottocento ha visto aumentare i suoi livelli di potenza e contemporaneamente ha visto anche potenziare imprimere una spinta formidabile alla rivoluzione industriale però sul finire del secolo ormai lei è una tecnologia matura e c'è ci sono generazioni generazioni gruppi di inventori che hanno trovato il modo di superarne i limiti in diverse direzioni ecco quindi che sono apparse come abbiamo visto un attimo fa le turbine a vapore che si dimostrano nettamente superiori alla macchina a vapore tradizionale nell'elettrogenerazione e nella navigazione i motori elettrici che sono certamente superiori per la trazione ferroviaria e per gli azionamenti industriali in realtà una certa vitalità per alcuni decenni le ferrovie a vapore la mantengono ma a un certo punto non verranno più prodotte men che meno gli azionamenti industriali vale lo stesso discorso fabbricate azionate dalla macchina a vapore continuano a funzionare ma chi fa nuove fabbriche ci mette dentro gli azionamenti elettrici e i motori a combustione interna ovviamente per la trazione stradale che presto sulclasseranno quei veicoli a vapore di cui vi parlavo prima e quindi la gloriosa storia della macchina a vapore si avvia ad un inesorabile declino e non è una cosa strana succede a tantissime altre invenzioni la classica ruota idraulica mediorale ha fatto la stessa fine il telegrafo a un certo punto anche lui ha fatto la stessa fine è stato in uso in ambito militare fino a alcuni decenni fa ma poi l'affermazione di altri mezzi di comunicazione più efficienti l'ha soppiantato oggi internet ovviamente lo fa immaginare come un sistema antidiluviano la macchina da scrivere di cui vi ho già parlato che ha avuto un successo strepitoso per molti decenni e poi è stata mandata in pensione da personal computer con programmi di work processing e stampanti collegate il vecchio disco in vinile che conserva ancora tanti affezionati ma è stato superato prima dal compact disc e poi da supporti quasi immateriali di musica come sono le chiavette flash oppure addirittura la trasmissione via internet dai siti che distribuiscono a pagamento la musica il tubo a raggi catodici che era il classico schermo per televisioni lo è stato per molte decennie oggi non esiste più è stato completamente superato dagli schermi piatti per qualsiasi applicazione le calcolatrici meccaniche mandate in pensione anche loro dalle macchine elettroniche e così via ce n'è un'infinità di testimonianze di questo tipo quindi come già vi ho detto le tecnologie che hanno vitalità molto lunghe e alcune ve le ho citate vanno viste con un certo rispetto e reverenza perché evidentemente hanno un valore intrisico veramente notevole parliamo di un'altra invenzione a proposito di veicoli ma priva di motore la bicicletta la bicicletta ho già avuto modo di raccontarvi e a questo punto arriviamo alla bicicletta moderna finalmente anche lei compare sul finire dell'ottocento come potete vedere nel 1885 è il solito geniale inglese John Starley che inventa quella che chiama bicicletta di sicurezza la vedete rappresentata lì e insomma è abbastanza simile a una bicicletta moderna che usiamo anche oggi in effetti è così è fondamentalmente la bicicletta moderna perché di sicurezza perché questa era una bicicletta che si poteva usare tranquillamente senza il rischio di rompersi l'osso del collo come si faceva invece con i i velocipedi che vi ho fatto vedere in lezioni precedenti e che invece erano degli strumenti per fare delle sfide di destrezza di equilibrio di abilità allora che cosa ha di notevole le ruote hanno la stessa dimensione i pedali sono posti in posizione centrale c'è la trasmissione a catena come nella bicicletta di Leonardo tra l'altro ci sono i freni è stabile la cosa importante anche da un punto di vista della cinematica è il tubo della forcella che è inclinato è un fatto importante per dare stabilità non è più verticale come nelle primissime biciclette chi coglie queste idee o tra l'altro Starley chiama questo modello rover e dall'azienda rover si sviluppano poi a un certo punto quando avranno ampia diffusione anche le automobili rover come il Land Rover il Range Rover è sempre quella l'azienda stavo dicendo questa stessa bicicletta viene distribuita negli Stati Uniti da un scaltro e abile imprenditore che si chiama Pop che diventa il primo industriale di biciclette negli Stati Uniti ricordiamoci che gli Stati Uniti sono un mercato enorme e quindi parlare di mercato di produzione industriale negli Stati Uniti assume un'importanza specifica e superiore a quella che in qualsiasi altro paese Pop dicevo prima importa queste biciclette e poi pensa di da esse derivare un modello più evoluto ed è la seconda fotografia che vedete qui sotto questa è la rover di Starley e questa è la bicicletta Pop di Pop ovviamente quali sono le novità banalmente ci sono dei tratti di telaio che sono rettilini quindi più facili da lavorare non richiedono la piegatura quindi risparmiano una lavorazione e la forcella è sempre inclinata qua c'è invece una piegatura come mai ha introdotto la piegatura qui visto che l'ha eliminata qua c'è un motivo molto tecnico molto carino da osservare ed è che nella bicicletta di Starley vedete l'asse di rotazione della ruota anteriore è questo e termina in questo punto mentre il punto di contatto con il terreno è qui quindi si crea una coppia tra punto di incardinamento e punto di contatto con il terreno che riduce la stabilità della bicicletta l'invenzione di Pop qui è quella di facciamo un po' la prosecuzione dell'asse di rotazione vedete che arriva proprio sul punto di contatto col terreno quindi si elimina questa coppia che disturba che ostacola la marcia sicura quindi è più perfezionata della precedente queste prime biciclette avevano le ruote con gomme piene per attutire i sobalzi non erano ruote metalliche con cerchioni metallici oppure si faceva anche per le automobili ma a un certo punto nel 1887 vedete siamo proprio negli stessi anni un signore scozzese che si chiama Dunlop inventa la ruota con pneumatico con tubo in gomma che viene gonfiato in aria ottenendo così una maggiore morbidezza e un più efficace assorbimento delle regolarità degli sobalzi dovuti alle regolarità del terreno Dunlop fa questa invenzione nel 1887 pensando a un gioco per il triciclo dei figli qua lo si fa vedere come funziona il primo pneumatico come vedete si tratta di un montaggio rudimentale con un teleno inchiodato su di una ruota di legno la stessa però si accorse subito della importanza in ambito veicolare e quindi deposita il brevetto e rapidamente due anni dopo fonda la Dunlop Pneumatic Tire Co. Unlimited che è la prima azienda di pneumatici e tuttora una grande azienda di pneumatici ovviamente con altri finanziatori come al solito servono le idee dell'inventore ma servono i soldi dei finanziatori per fare queste cose e il primo sfruttamento commerciale avviene nelle biciclette e nei velocipedi appunto e successivamente nelle automobili però la realizzazione è ancora rudimentale anche se i sistemi di montaggio sulle biciclette sono più sofisticati di quello che vedete qui erano ancora artificiosi e quindi servivano delle idee per rendere più agibile la gestione dello pneumatico pensate che le forature pure a quell'epoca sia per la qualità della gomma sia per lo stato delle carreggiate stradali erano frequenti quindi intervenire nell'istituzione o riparazione della gomma dello pneumatico non era una cosa banale chi prova una soluzione geniale sono due fratelli francesi che hanno un nome molto famoso per quanto riguarda appunto i pneumatici sono André ed Edouard Michelin che appunto pensano ad un sistema per rendere facilmente montabile e smontabile lo pneumatico dotato di camera d'aria ecco la camera d'aria interna lo pneumatico esterno che tramite un sistema a viti può essere facilmente montato e smontato sul certione anche loro rapidamente avviano la loro azienda poi adesso noi li conosciamo anche attraverso la guida Michelin dei ristoranti per lo meno per chi ama la culinaria ma sono gli stessi c'è un collegamento importante tra biciclette e guida Michelin dei ristoranti ma non lo sto a raccontare adesso se no la lezione dura troppo la cosa importante è che propongono il loro pneumatico con camera d'aria smontabile a chi partecipa alle corse ciclistiche vi ho detto che erano molto in voga allora le competizioni che usavano questi metri di locomozione nuova non solo le automobili ma anche le biciclette si facevano temerarie e faticosissime gare ciclistiche addirittura a 1198 km vedete e a un certo punto viene adottata appunto dal signor Charles Theron che con essa vince questa gara ciclistica la più importante di Francia di 1198 km andata e ritorna da Parigi e anche il secondo arrivato è dotato degli stessi pneumatici anzi in realtà pneumatici prodotti da Dunlop ma comunque pneumatici e con la loro con le loro vittorie primo e secondo posto dimostrano che il loro mezzo è nettamente superiore agli altri concorrenti che hanno invece ruote con coperte da gomma piena e ovviamente è la dimostrazione che questa idea della camera d'aria dello pneumatico sono superiori alla gomma piena ne segue un'immediata affermazione e un successo strepitoso per uso appunto ciclistico qualche anno dopo 1894 comincia ad essere usato anche ovviamente nei veicoli a motore che visto il successo nelle biciclette se ne fanno se ne impossessano anche loro e arriviamo anche a parlare di veicoli a motore quindi nel 1882 ecco un contributo notevole italiano specificamente padovano ed è il motore a due tempi con combustibile liquido e carburatore inventato da Enrico Bernardi veronese ma professore a Padova ingegneria meccanica usa il carburatore che viene in realtà ideato in Italia nel 1876 da De Cristoforis e con esso realizza motorizza con lo stesso anno un triciclo che ha ancora la struttura in legno evidentemente più accessibile che chiama Pia il nome della figlia e che in realtà è una realizzazione di successo tant'è vero che nel 1884 è l'esposizione la stessa di cui abbiamo già parlato viene premiato l'esposizione internazionale di Torino con questo veicolo di Bernardi ed è il primo veicolo con motore a combustione interna italiano ecco per inciso devo dire che l'idea di usare combustibile liquido e carburatore ovviamente con necessariamente con il carburatore non era la prima volta che appariva ma l'avevano già tentato sperimentato abbiamo fatto accenno Mori in una forma molto rudimentale nel 1926 poi Lenuari in Francia nel 1963 e Marcus in Germania nel 70 nel 1885 adesso vediamo un po' la sequenza c'è un altro grande tecnologo in questo caso tedesco che segue la stessa strada il suo nome è Karl Friedrich Benz e costruisce la sua automobile con motore a combustione interna la vedete lì anche in questo caso vedete un treciclo e ancora quello è il principio è una specie di calesse in cui manca il cavallo è sostituito per la stabilità dal ruotino anteriore e per la propulsione dal motore in questo caso un motore a combustione interna e conservatoio sotto al sedile è un motore piccolino per i standard attuali poco più di 500 cm3 una potenza veramente quasi ridicola raffreddato ad acqua primo veicolo che usa anche il differenziale per trasmettere il moto alle ruote motrici che sono quelle posteriori c'è anche una catena come vedete nel 1883 aveva creato l'azienda per produrre questi motori a combustione interna nel 1885 li mette a bordo di questi calessi e li trasforma in un'autovettura con motore a combustione interna inizia la produzione nel 1886 ed è la prima volta che gli automobili con motore a combustione interna vengono prodotte industrialmente ed è anche la prima azienda automobilistica allora questo fa sì che spesso si trovi nei libri di storia della tecnologia in particolare quelli tedeschi l'affermazione che l'auto di Benz è la prima automobile della storia non è vero direi che la lista di nomi che abbiamo visto nella slide precedente Lenoir e Marcus ci avevano già provato e Bernardi l'aveva già realizzata tre anni prima però va il merito a Benz di averla portata alla industrializzazione 1890 c'è la trasformazione della società e sapete che Benz è tuttora un nome importantissimo nell'industria automobilistica in abbinamento con Daimler Daimler Benz ma Daimler in realtà appare in un altro modo nel mondo delle automobili con motore a combustione interna lo vediamo tra poco prima di tutto vi faccio vedere come funziona se ci riesco l'automobile di Benz eccola qua questo signore l'ha messa in moto in realtà non è così facile è una replica americana non è così facile metterla in moto quel grosso volano serve anche per avviare il motore ecco che adesso va vi ho risparmiato altri 5 tentativi prima di quello buono o no? no non è ancora quello buono effettivamente non ve li ho risparmiati mi sembrava di averli eliminati per semplificare un po' le cose andiamo eccola di che gira ho avanzato io è una replica fedele della invenzione di Benz del 1885 sembra tutto molto rudimentale ma in quel momento era il meglio che si poteva trovare per i motori a combustione interna direi che possiamo andare avanti adesso c'è anche la si fa vedere che va funziona funziona davvero eccola così si andava in giro con le automobili a quell'epoca 1885 lo ripeto seguiamo ed ecco che compare Daimless lo stesso anno lui e il suo socio Maybach in realtà più giovane di lui realizzano un motore particolarmente efficiente a combustione interna a ciclo 8 con carburatore quindi alimentato a benzina loro sono in realtà ex dipendenti di Otto e Langen per cui hanno sviluppato delle motori molto avanzati poi litigano con i due proprietari dell'azienda appunto Otto e Langen e creano una loro azienda la Diner e Maybach che produce all'inizio questo motore e poi pensa appena dopo quando si rende conto dell'efficacia del motore della loro invenzione di dove sta andando la tecnologia di realizzare anche dei primi veicoli commossi da questo motore i veicoli sono questi nel 1885 la prima motocicletta struttura in legno vedete un pochino come il triciclo di tre anni prima del nostro Bernardi e poi l'anno dopo una autovettura in questo caso a quattro ruote qua c'è un'intuizione molto feconda e poi nello stesso anno non avete la fotografia anche un'imbarcazione con la stessa motorizzazione andiamo ancora avanti su questa strada nel 1892 1893 compare un altro inventore di motori a combustione interna con un motore di concezione diversa è Rudolf Diesel e la sua invenzione è il motore diesel ovviamente non può che essere così in questo caso l'invenzione non è uscita da semplicemente dalle fabbriche come con le altre motorizzazioni tedesche ma è il frutto di uno sviluppo scientifico particolarmente raffinato il motore diesel viene concepito per massimizzare l'efficienza di funzionamento di queste macchine è geniale nella sua concezione richiede però che il combustibile venga immesso nella cambera di combustione dopo che è stata eseguita la fase di compressione e per fare questo quindi serve una pompa di iniezione per immettere il combustibile particolarmente efficace in quel momento ancora pompe di questo tipo non ce ne sono o sono poco efficienti per cui all'inizio l'accettazione del motore trova diesel trova delle difficoltà e solo man mano che saranno disponibili pompe di iniezione adeguate il motore avrà successo all'inizio è più facile fare questo sulla grande scala quindi le prime installazioni di successo sono per usi statici e per usi navali e poi per le locomotive poi per i camion e solo successivamente per le automobili in particolare devo dire in Europa mentre le grandi realizzazioni su grande scala sono motori in realtà abbastanza diversi tra di loro più lenti più complicati più pesanti si trovano anche negli Stati Uniti la tecnologia dei motori diesel per veicoli stradali per automobili è stata sviluppata è stata trascurata molto negli Stati Uniti è stata sviluppata bene in Europa prima di tutto in Germania ma anche in Francia ed anche in Italia bisogna dire e questo è uno dei motivi per cui pochi anni fa si è sviluppata una guerra commerciale che ha coinvolto anche il rispetto delle norme anti-emissioni su cui ci sarebbe molto da dire ma non ho il tempo per raccontarveli in questo momento se volete ne parliamo durante un tele ricevimento cosa notevole qual è il combustibile liquido che usa per la sua motore diesel è un olio di arachidi combustibile e quindi possiamo dire a tutti gli effetti che il primo motore diesel era anche un motore che usava il primo biodiesel della storia ecco questo è uno dei primi o il primissimo motore di diesel ancora una volta al Deutsche Museum come potete vedere e anche qui ogni tanto vi presento queste tabelle riassuntive che vi fanno vedere qual è la dinamica di maturazione del motore a combustione interna a partire dalle prime intuizioni di Eugens e Pappin 1680 fino a 1892 diesel e poi ci sarebbe da aggiungere anche se magari non ci dedicheremo del tempo specifico nel 57 il motore rotativo Wanker ve lo cito perché a un certo punto nella logica del motore a combustione interna entra l'idea di dire evitiamo il moto alternativo del pistone dentro al cilindro per eliminare i limiti di efficienza che questo comporta chi fa questo passaggio è Wanker come potete vedere 1997 anche se poi non si è mai affermato completamente quel motore si ha un discreto successo ma come sapete bene il mercato dei motori a combustione interna è dominato dai motori a moto alternativo 8 a ciclo 8 oppure a ciclo diesel e torniamo a questo punto a parlare di Enrico Bernardi perché lui nel frattempo è andato avanti a sviluppare i suoi motori e i suoi veicoli e nel 1894 ecco che esce con un'ulteriore autovettura tricicla con motore a combustione interna stavolta a quattro tempi dotato di cambio a tre marce che attira anche interessi industriali perché un grande lattefondista visionario piemontese Giovanni Agnelli ma non quello che è morto qualche decina di anni fa il nonno di quello che era un grande imprenditore intuisce la potenzialità di questo mercato raggiunge Enrico Bernardi a Padova cerca di vedere se è interessato a sviluppare l'idea industrialmente trova una resistenza enorme da parte dei latifondisti veneti quindi a un certo punto torna in Piemonte e invece di far la fabbrica di automobili a Padova la fa a Torino ma lo vedremo più bene l'automobile è questa e anche in questo caso vi faccio vedere un'animazione che allora la si può visitare quest'automobile perché si trova tuttora nel museo di macchine intitolato a Bernardi appunto del Dipartimento di Ingegneria Industriale del nostro Dipartimento ma visto che siamo in epoca Covid non posso proporvi la visita come ho fatto l'anno scorso però almeno vi faccio vedere vi faccio vedere un filmato dell'ultima volta che è stata fatta funzionare è stata fatta circolare per le strade occasione nella quale ha raggiunto il luogo di una conferenza di ingegneria meccanica ecco la quale vedete arrivare con un tecnico del Dipartimento che allora era un professore adesso è in pensione che raggiunge come vi stavo dicendo la sede della conferenza quindi funzionante adesso si fa fatica a farla andare mi dicono i miei colleghi che se ne occupano perché ha bisogno di un combustibile particolare che è molto difficile da reperire non funziona con le benzine ordinari bene andiamo avanti e allora questi sviluppi continuano impetuosi in modo particolare in Germania ad opera di Daimler e Maybach da una parte di Benz all'altra e vedete nel 1895 Benz se ne esce con il primo autobus dotato di motore a combustione interna qua evidentemente aveva voglia di fare concorrenza ai filobus elettrici di Simmers ai tram elettrici di Simmers vediamo Daimler e Benz in particolare scusate Daimler e Maybach in particolare Maybach che è veramente la mente propulsiva delle invenzioni di questa azienda che se ne esce nel 1897 con il radiatore automobilistico a nido d'ape qua vedete benissimo come è fatto si tratta di un fascio di tubi che hanno le estremità sagommate ad esagono in modo che i lati combacciano e possono essere saldati insieme senza che ci siano possibilità di perdita e di trafilamento da una parte e dalla parte opposta quello che legna fuori è una forma che sembra l'alveare a nido d'ape ve ne ho fatto vedere uno nella prima lezione se ricordate e a che cosa serve tutto questo realizza è uno scambiatore di calore efficacissimo che funziona in questo modo ne vedete qua una rappresentazione si fa fluire l'acqua trasversalmente calda da raffreddare mentre orizzontalmente si fa fluire l'aria di raffreddamento man mano che il veicolo avanza in questo modo lo scambio termino diventa estremamente efficace e si può raffreddare molto bene l'acqua calda in altre parole permette di fare funzionare il motore a temperature più elevate per cui il raffreddamento è efficace sviluppando o meglio sarebbe da dire sviluppando calori dissipati più elevati a densità di potenza più elevata ecco questo discorso è giusto e in questo modo quindi se ne ottengono motori sempre più performanti ha un ruolo chiave il radiatore anidotappe in questo senso e lo vedete qui posizionato davanti a un tipico radiatore di un'auto d'epoca il disegno del 1894 ma in questo modo si sono realizzate le automobili per vari decenni all'inizio del secolo poi è stato mascherato dentro alla carrozzeria il radiatore anche in Francia ci sono notevoli progressi con il motore a combustione interna abbiamo visto che avevano avuto già la vocazione era nata lì delle automobili con motore a vapore delle automobili elettriche non possono che arrivare anche queste in questo caso i i grandi protagonisti iniziali sono i Renault e tuttora sappiamo che è una grande casa automobilistica francese l'anno successivo finalmente arrivano l'industria automobilistica anche in Italia 1899 è proprio quel Giovanni Agnelli di cui vi parlavo prima che visto la non disponibilità veneta crea la prima fabbrica di automobili italiana la Fiat fabbrica italiana di automobili Torino a Torino ovviamente persona lungimirante interessante lo sviluppo tecnologico molto di più di quello che sarà dopo decenni dopo suo nipote che sarà più interessato invece alle trattative e alle dinamiche finanziarie dell'azienda e crea la fabbrica e il primo modello che viene realizzato è la Fiat da 4 cavalli pensate 4 cavalli fa un po' ridere però così si facevano le automobili allora del 1899 la vedete rappresentata qui intanto Maybach va avanti con le sue realizzazioni nel 1901 è rimasto lui solo in realtà poi entrerà un nuovo socio perché Daimler nel frattempo più anziano è morto realizza un motore molto avanzato un motore da 35 cavalli ecco fate il confronto con i 4 cavalli della Fiat di prima e lo mette a bordo di un'automobile di concezione molto innovativa eccola qui è la Mercedes 35 cavalli Mercedes è il nome della figlia di un finanziatore di un socio di Maybach un facoltoso diplomatico se ricordo bene e ne viene fuori quest'automobile che effettivamente è un passo in avanti notevolissimo nella storia delle automobili vedete che l'assetto è di tipo moderno anche se la configurazione della carrozzeria ci appare antico ma il modo in cui sono poste le ruote l'uso degli pneumatici le posizioni di guida eccetera il radiatore il motore molto performante effettivamente sono quelle che avviano l'automobile verso soluzioni e configurazioni moderni ovviamente con questo l'automobile comincia ad avere sempre più successo comincia ad essere disponibile per tragitti e anche extraurbani dato alla notevole autonomia che ha rispetto alle altre motorizzazioni di cui abbiamo parlato ma questo fa sì che ci servano delle strade diverse perché finché le careggiate sono così scadenti come vi ho detto prima l'auto fa fatica ad essere usata al di fuori delle città e quindi la disponibilità di questi automobili comporta la necessità di ripensare la rete stradale di un paese ancora una volta una tabella riassuntiva delle automobili con motore a combustione interna ovviamente a partire da quei prototipi del 1807 vi ricordate idrogeno ossigeno una idea visionaria che oggi cerchiamo di realizzare anzi ormai diventata realtà con le celle a combustibile fino a queste innovazioni di cui vi ho parlato adesso qua tra l'altro mi rendo conto che manca la mercedes varebbe la pena di citarla e a questo punto parliamo di un altro tipo di veicolo diverso che è quello che invece si libera in aria torniamo al 1853 quindi facciamo un passettino indietro rispetto all'ambito temporale su cui è centrata la lezione e andiamo in Gran Bretagna dove troviamo un signore che si chiama George Kiley che è in realtà uno scienziato e tecnologo è un professore universitario che studia il volo indaga i principi su basi scientifiche e su queste basi realizza un mezzo che è in grado di sfruttare la spinta di sostentamento che è in grado di produrre l'aria se si usa un'ala con un opportuno profilo in altre parole realizza il primo aliante primo veicolo progettato anche su basi scientifiche se lasciamo un attimo tra parentesi l'esperienza di Leonardo Da Vinci è più o meno come scrivo qui un paradute governabile che non un vero e proprio veivolo non è fatto per fare lunghi voli però insomma ci sono queste concezioni innovative lo fa collaudare al giardiniere che in realtà non è molto felice dell'esito finale perché l'atterraggio come è sempre stato in passato rimane rovinoso però insomma ci sono i principi fondamentali e lui apre la strada quella che deve essere la modalità di studio di questo tipo di veicoli e una persona che coglie questo insegnamento con notevole successo è un tedesco che si chiama Otto Lilienthal eccolo qui nel 1891 realizza un primo agliante operativo con profilo all'area adeguato a cogliere la spinta di galleggiamento della prodotta dall'aria mentre il veicolo avanza simile a un detaplano in questo caso come vedete lui ne sviluppa vari modelli li commercializza ovviamente per i soliti appassionati spericolati audaci temerari che vogliono sperimentare le nuove tecnologie e li collauda anche lui stesso ovviamente è un appassionato di queste cose finché nel 1896 un collaudo va male precipita e ahimè dopo qualche giorno di agonia Otto Lilienthal muore però in realtà il suo insegnamento non va perduto gli sviluppi successivi di chi si dedica allo studio del volo tengono conto fanno tesoro dell'insegnamento di Lilienthal questo tra l'altro è Lilienthal proprio un attimo prima di lanciarsi con uno di questi suoi alianti una strada diversa al volo qua ne vedete la fotografia ma vi dico subito di chi si parte mamma sono messi in ordine sbagliato va bene in dispiazza facciamo così allora la sperimenta nel 1877 Enrico Forlanini che recupera l'idea dell'elicottero di Leonardo da Vinci e realizza questo curioso elicottero in realtà non è fatto per il volo umano non è pilotato è un modello che si autosostiene in aria mosso da un motore a vapore qua c'è ancora un motore a vapore siamo a 1877 ricordiamolo però privo di caldaia in altre parole la caldaia per creare il vapore viene sganciata nel momento in cui l'elicottero si alza e finché c'è a disposizione nel vapore l'elicottero continua a volare si alza di 13 metri quindi un risultato significativo per 20 secondi poi esaurito il vapore ovviamente ricade a terra è la prima intuizione che esiste questa via alternativa al volo la terza via se vogliamo dopo il pallone aerostatico che diventerà dirigibile l'aeroplano dotato di anni questo è l'elicottero nel 1890 altra tappa stavolta siamo in Francia ecco che un grande innovatore tecnologo si occupa anche di varie altre cose non mi sto a raccontare adesso Clement Ader realizza un aeroplano che mette insieme un po' le due idee ci sono i profili alari come quelli che utilizza che propone il nostro Lilienthal ma c'è anche il motore a vapore e con questo e con questo riesce a fare un volo abbastanza efficace nel senso che si solleva da terra di soli 20 centimetri però e per un tratto molto breve per 50 metri e in modo non controllato i criteri di stabilizzare il volo non sono ancora applicati correttamente per cui di fatto è un successo solo parziale successivamente nel 1897 lo vedete qui realizza un modello più sofisticato che chiama EOL 3 Trois anzi se vogliamo dirla in francese il primo era EOL e basta e che però ahimè più sofisticato più complesso dotato di due ali lo vedete qui esposto al museo degli arti e mestieri di Parigi di cui ho parlato altre volte non riesce nemmeno ad alzarsi quindi i francesi ci raccontano che il primo aereo a motore che ha volato era francese ed era questo ma ovviamente va detto che era un sesso un po' parziale diciamo che la grandeur della France torna fuori anche in questa occasione 1884 passino indietro altra invenzione cercando di colmare anche gli spazi lasciati in sospeso ecco un'invenzione distruttiva la mitragliatrice automatica di Maxime Maxime è un inventore americano che a un certo punto si trasferisce e va a vivere in Gran Bretagna inventore di una delle lampadine a incandescenza quasi simultaneamente a Edison che tra le varie cose che inventano sono le uniche pensa anche a questa mitragliatrice automatica supera le performance della Gatling vedete il processo successivo ahimè anche in campo distruttivo in quanto non c'è sazionamenti meccanici viene ricaricata dall'esplosione del colpo precedente ha una potenza di fuoco impressionante disastrosa terribile e ahimè è alla base delle mitragliatrici che proprio con tale potenza di fuoco anche peggiore verranno ampiamente usate di lì a non molti anni in guerre minori prima e poi addirittura nella prima guerra mondiale visto che ho parlato di tecnologie distruttive vediamo anche di tecnologie parlare di tecnologie che salvano la vita e quindi tecnologie mediche nel 1881 compare in Austria von Basch inventa lo sfingomanometro lo strumento per misurare la pressione arteriosa strumento importantissimo ovviamente sappiamo bene che appena ci fanno una visita medica ci misurano la pressione ecco lo strumento è apparso in questo momento nel 1881 però bisogna dire che nel 1896 c'è il contributo di un grande fisiologo italiano Scipione Rivarocci nel perfezionarlo e nel renderlo quindi con questi perfezionamenti di dominio pubblico diventa molto popolare viene adottato anche in altri paesi nel 1901 viene introdotto in Nord America e come vedete nel 1905 c'è un contributo russo in questo caso che lo perfeziona per misurare la pressione arteriosa non solo massima ma anche quella minima e sappiamo che oggi quando andiamo dal medico queste due pressioni ci vengono misurate c'è un'altra tecnologia notevole notevolissima che ha implicazioni mediche che appare in questi anni e che è quella dei raggi X i raggi X vengono scoperti nel 1000 ufficialmente nel 1995 da un grande fisico tedesco William Ronten che ne riceve anche il Nobel per la fisica il primo Nobel per la fisica ma in realtà a ben guardare scavando nei libri di storia della scienza si scopre che non è la prima volta che sono stati individuati infatti infatti nel 1881 uno scuro dimenticato sconosciuto fisico ucraino che si chiamava Pulwi li aveva già osservati li aveva già documentati senza riuscire a dare la dovuta divulgazione Rontgen è un tedesco la Germania in quel momento è al vertice dell'importanza scientifica della ricerca scientifica non solo tecnologica anche scientifica e quindi lui trova i canali per dare ampio risalto alla sua scoperta che è del tutto si prensa indipendente non sono gli unici perché anche nel 1895 1895 non 1995 chiedo scusa qui me ne accorgo adesso anche un altro nome famoso Tesla stava facendo esperimenti di questo tipo cosa importante è che già l'anno dopo visto che la scoperta viene fatta osservando il fatto che sono in grado di penetrare i tessuti umani e creare quindi delle immagini dello scheletro che altrimenti è nascosto invisibile ovviamente alla nostra vista vengono usati nella diagnostica medica ovviamente a RG già dal 96 e un grande impulso al loro utilizzo viene dato da due grandiosi scienziati dovrei dire francesi ma in realtà è meglio dire francesi e polacchi Pierre Curie era tutto francese ma Maria Sklodowska Curie era una formidabile scienziata polacca che poi divenne francese perché sposò Pierre e che detero i contributi fantastici alla storia allo sviluppo scientifico e che si dedicarono anche a queste applicazioni a dare impulso alla diagnostica medica in particolare poi durante la prima guerra mondiale negli ospedali da campo sul fronte o per inciso Maria Sklodowska Curie oltre che adesso la persona a cui sono intitolato un programma di scambi scientifici cioè di ricercatori europei è stata la prima persona al mondo che ha ricevuto due premi Nobel uno per la fisica e uno per la chimica sono stati pochissimi se ricordo bene rimangono quattro lei è la prima bene parliamo ancora di tecnologie mediche e andiamo all'elettrocardiografo tecnologie elettriche di segnale con il loro sviluppo hanno permesso proprio nel 1903 di arrivare a questo siamo in Olanda Willem Eintowem è l'inventore dell'elettrocardiografo che è il primo strumento che permette una diagnostica medica quantitativa scogliamo insieme allo sfingomanometro ma di fenomeni interni rileva gli impulsi elettrici nel cuore ossia l'elettricità biologica che era un secolo prima proprio poco più di un secolo prima stata indagata da Galvani in Italia c'è anche una tecnologia ricreativa che fa la sua comparsa e si diffonde in questi anni compaiono nuovi strumenti per la riproduzione del suono quindi della voce ma anche della musica la tecnologia che diventa quindi veicolo di spettacolo e di cultura sto parlando del gramofono a disco fonografico quello che poi diventa il disco in vinile di cui parlavo prima l'inventore Berliner ancora una volta un tedesco uno scienziato tecnologo che si sposta a un certo punto in America per trovare e portare al successo le sue invenzioni inventa anche altre cose in America poi ciò appunto tornerà anche in Germania e li fonda una casa discografica che tuttora esiste si chiama Berliner quindi prendo il nome da qui è uno strumento attenzione meccanico non c'è l'elettricità in questo strumento siamo nel 1887 è più evoluto del fonografo di Edison vi ho già detto del disco vinile questo è il simbolo proprio di una delle prime case discografiche che sfruttano sistematicamente la Victor con his master voice è il cane che ascolta la voce del proprio padrone uscire da una macchina invece che da una persona altra tecnologia che diventa spettacolo è il cinematografo il cinematografo viene inventato dai fratelli Lumière ed è un strumento che sfrutta la gestione selettiva della luce quindi il nome degli inventori è particolarmente azzeccato in questo caso i quali realizzano nel 1895 i primi film ma cinematografo vuol dire anche film che vengono proprietati in un teatro particolare davanti a un pubblico di spettatori e questa è la loro grande intuizione i primi film si intitano la uscita dalla fabbrica Lumière l'altro l'arrivo del treno alla stazione come vedete non sono i primi che fanno questi esperimenti perché l'idea di ricreare la percezione del moto tramite una sequenza di immagini statiche è già venuta ad altri è venuta a un signore che si chiama Le Prince nel 1888 e poi è venuta anche a Edison che effettivamente la realizza in una macchina che si chiama kinetoscopio ma è una macchina ad uso individuale bisogna infilare la testa in un visore e guardando dentro si vedono appunto questa animazione di immagini tra l'altro combinato con il fonografo che fornisce il suono quindi diventa una macchina da spettacolo si mette dentro una monetina si assista a questo spettacolo e passiamo via i Lumière hanno l'idea di fare uno spettacolo pubblico dentro a una sala teatrale è un'idea ovviamente che ha un successo stepitoso col tempo neanche a dirlo ancora una volta la tecnologia che si mette al servizio dell'industria dello svago e diventa un mezzo non solo di divertimento ma un mezzo di creatività artistica di creatività culturale e anche un mezzo che crea nuovi imperi economici quelle delle grandi case di distribuzione e anche di tutto lo star system se pensiamo ai grandi divi americani di oggi quanto ricchi diventano con i loro film abbiamo un'idea di cosa vi faccio vedere invece che parlare di Tom Cluse o di qualche altro divo vi faccio vedere come erano i primi filmati appunto all'arrivo di un treno in stazione vediamo se riesco a farlo partire non così ma devo fare in questo modo come ho imparato eccolo qua ecco questo è uno dei primissimi film vedete appunto il treno che arriva in stazione allora le cronache dicono che quando nello schermo di proiezione delle sale cinematografiche gli spettatori per la prima volta vedevano arrivare i treni così si spaventavano e saltavano sulle poltrone e magari qualcuno scappava anche fuori dalla sala tanta era l'impressione che faceva vedere queste animazioni ok torniamo a noi siamo abbastanza avanti se abbiamo visto altra invenzione di fine secolo questa volta arriviamo in Italia è la trasmissione telegrafica con onde radio non l'invenzione della radio la radio è un po' equivoco come termine potremmo intendere la trasmissione di parlato e di musica tramite la radio questa non l'ha inventata Marconi arriverà qualche anno dopo nel 1895 Marconi fate un attimo i conti è nato nel 74 nel 95 ha 21 anni non è nemmeno andato all'università si fa queste cose facendo esperimenti a casa sua appunto facendo esperimenti in una villa di campagna del padre lui è figlio di un facoltoso latifondista emiliano riesce a realizzare la trasmissione telegrafica credo se parlo bene un chilometro e mezzo di distanza con le onde radio trasmette un segnale di tipo telegrafico usando le onde radio è il primo che realizza questo risultato ma in realtà ci sono tante altre persone che stanno girando intorno all'idea di trasmettere onde radio queste sono le tappe fondamentali di questo sviluppo prima scientifico l'intuizione matematica che le onde radio esistono si deve a Maxwell che le ottiene matematicamente appunto combinando le sue celebri equazioni nel 64 molti dicono ma è un'idea folle è solo matematica non ha nessuna evidenza sperimentale molti scienziati lo dicono ma c'è un manipolo di entusiasti che vengono chiamati maxwelliani tra l'altro che sono convinti che c'è qualcosa di vero e che ci lavorano sopra cercano di fare esperimenti cercano di dimostrare l'esistenza chi ci riesce nel 1887 è un formidabile scienziato tedesco Heiri Kertz che appunto realizza un esperimento celeberrimo nella storia della scienza usando tecnologia quindi vedete la scienza combinata dalla tecnologia e dimostra in modo inicovocabile che le onde radio esistono si possono trasmettere impulsi di tipo degli impulsi radio di lì a poco altre persone tra questi entusiasti realizzano strumenti che permettono di produrle di rilevarle 1890 il coesore che è il rilevatore di onde radio appunto Brangley è un francese poi l'oscillatore per produrre le onde radio in modo più efficace che non come aveva fatto Hertz in questo caso è Augusto Righi un grande scienziato italiano di quell'epoca che è stato sull'orlo del premio Nobel per parecchio tempo poi hanno preferito altri l'antenna ricevente importantissimo ovviamente nella trasmissione e ricezione di onde radio che è ideata da un russo Popov in realtà all'inizio lui la pensa come antenna ricevente tra l'altro degli impulsi radio dovuti alle fulminazioni ai fulmini durante i temporali ci sono esperienze del 1896 anche di Tesla 1895 quello che fa Marconi è di mettere insieme la antenna sia in ricezione che in trasmissione e riesce quindi nella sua trasmissione a differenza di tutti gli inventori italiani dell'800 di cui vi ho parlato Marconi ha un successo strepitoso successo strepitoso nel 1897 nel Regno Unito fonda la prima azienda telegrafica mondiale la Marconi Wireless Telegraph Company ed è e da lì avvia anche la sua vicenda personale non solo al raggiungimento di grandi risultati scientifici ma anche grandi risultati economici come mai Marconi riesce in tutto questo a differenza di tutti gli altri italiani di cui vi ho parlato a partire da me Matteucci Barsanti e Matteucci e tanti altri Pacinotti e così via ma ci riesce per un motivo molto semplice adesso non scandalizzatevi non fate un salto sulla sedia ma Marconi non era un italiano per parte di padre sì ma per parte di madre no la mamma di Guglielmo Marconi era una aristocratica inglese anzi aristocratica inglese irlandese ma a quell'epoca l'Irlanda faceva parte del Regno Unito la quale aveva educato privatamente suo figlio Guglielmo e Marconi da piccolo parlava molto meglio l'inglese che l'italiano questa sua cultura anglosassone gli aveva permesso di accedere molto facilmente alle riviste scientifiche dell'epoca che portavano i risultati più importanti gli ultimi risultati gli ultimi risultati scientifiche e da qui aveva avuto accesso alle informazioni che l'operatore scoperte tra l'altro Righi era professore a Bologna lui abitava proprio lì e quindi andava anche a frequentare il laboratorio di Righi pur non essendo iscritto all'università quando fece la sua invenzione fu la mamma che lo mandò in Gran Bretagna e lo introdusse alle persone che importavano in Gran Bretagna per trovare il supporto necessario a vedere recepita la sua invenzione a registrare i brevetti e a creare la prima azienda questa è la storia alle spalle del successo di Guglielmo Marconi nel mille non vi sto a raccontare gli altri passaggi nel 1900 scusate 1901 Marconi fa il grande passo il grande passo è intuire di poter trasmettere i messaggi da una costa all'altra dell'Atlantico su una distanza quindi di parecchie migliaia di chilometri un risultato che la scienza ufficiale riteneva assolutamente impossibile perché le onde radio procedono secondo direzioni rettilinee e non sono in grado quindi di seguire la curvatura terrestre i suoi segnali partiti dalla cornovaglia dicevano agli scienziati ufficiali maggior parte degli scienziati si sarebbero persi nel vuoto cosmico senza raggiungere la stazione ricevente a Terra invece Marconi riesce in questo risultato ecco vi devo dire in questo momento che abbia ottenuto veramente il successo del 1901 alcuni studiosi di storia della scienza e della tecnologia lo contestano ma è assolutamente incontestabile il fatto che l'anno dopo ci è riuscito certamente allora il fatto che ci sia riuscito certamente l'anno dopo tra l'altro questa foto è della stazione ricevente proprio del 1902 come vedete sposta solo di un anno il risultato formidabile che lui ha ottenuto ha dimostrato che effettivamente le onde radio potevano viaggiare da una parte all'altro del globo seguendo la curvatura terrestre perché il motivo è che la ionosfera è uno strato di gas ionizzati che si trova in alta quota che funge da strato riflettente delle onde radio e permette quindi a loro di viaggiare rimanendo confinate in una corona sferica che circonda formata dall'atmosfera ovviamente non è l'unica obiezione che deve superare il povero povero no perché era già diventato ricco ma era già di famiglia ricco il povero diciamo scientificamente povero Marconi perché oltre alle obiezioni scientifiche deve superare anche l'ostilità delle compagnie proprietarie dei cavi elettrici che detenevano il controllo delle trasmissioni telegrafiche da una parte all'altra lucrosissimo tra l'altro dell'oceano dell'Atlantico e lui apre una nuova strada invece ovviamente riesce ad imporsi riesce a trovare i supporti finanziari in America e in Inghilterra e gradualmente i suoi sistemi si impongono portano lui al grande successo a un certo punto vince anche il premio Nobel per la fisica ovviamente ipotesi scientifica come mai avviene questo fenomeno ve l'ho detto e la presenza dell'ionosfera viene scoperta proprio in seguito agli esperimenti di Marconi qualche anno dopo e con questo abbiamo finito anche questa lezione un po' più breve del solito me ne compiaccio e vi do appuntamento alla prossima arrivederci a un po' più breve a un po' più breve a un po' più breve